Bocche cucite al Consubing, alle grazie, sui tre incursori feriti in Iraq. La giornata scorre apparentemente come tutte le altre all'interno della storica base del Varignano, dove il raggruppamento subacquei e incursori Teseo-Tesei è guidato dal contramiraglio Massimiliano Rossi. Ma è facile pensare che tra i comminitoni ci sia apprensione e sgomento. La comunità porto-venerese esprime la vicinanza alle famiglie degli incursori e a questa realtà importante sul nostro territorio, con la quale collaboriamo per diverse attività, spiega il sindaco Matteo Cozzani, che raggiunto telefonicamente dall'ANSA si dice molto colpito. L'intera comunità è ferita da questa triste notizia. Ci stringiamo in un abbraccio alle famiglie di questi ragazzi molto giovani. Li aspettiamo presto a casa. L'attentato è avvenuto ieri mattina per mezzo di un LED, un ordegno esplosivo rudimentale, fatto detonare al passaggio di un team misto di forze speciali italiane in Iraq. I militari stavano svolgendo un'attività di addestramento in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all'ISIS. L'attentato è avvenuto intorno alle 11 locali, nella zona di Suleimania, nel Kurdistan iracheno. Ad essere coinvolti sono stati i commandos della task force presente in quell'area, che stava svolgendo un'attività di supporto ad un'unità di forze speciali dei Peshmerga. I cinque militari coinvolti nell'esplosione sono stati subito soccorsi, evacuati con elicotteri USA facenti parte della coalizione e trasportati in un ospedale dove hanno ricevuto le prime cure. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appresa la notizia del gravissimo attentato contro il contingente militare italiano in Iraq, ha immediatamente diramato un messaggio di solidarietà per i militari rimasti feriti. Sto seguendo con dolore e apprensione, si legge nella nota del capo dello Stato, quello che è accaduto in Iraq ai nostri militari, coinvolti in un attentato. I nostri ragazzi erano impiegati in attività di formazione delle forze di sicurezza irachine impegnate nella lotta all'ISIS. In questi casi il primo pensiero va ai soldati colpiti, alle loro famiglie e a tutti i nostri uomini e donne in uniforme che ogni giorno rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza.